La sanità pubblica si difende, manifestazioni in tutta Italia, grande partecipazione all'Aquila, sit-in, pure a Campobasso, circa 6 milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure. Verso le regionali arriva in Molise il ministro della salute Schillaci e scoppia la polemica. Gravina attacca Roberti, Izzo visita le aree abbandonate del capoluogo. Mazzette e droga in cambio di favori nelle gare d'appalto del comune di Pescara, i legali degli arrestati chiedono misure meno afflittive. Dopo l'ennesima aggressione a un agente, i sindacati manifestano davanti al carcere di Larino per chiedere più personale, il penitenziario è invivibile. Vasto al via il programma dei lavori sul litorale in vista dell'inizio della stagione estiva, al microfono di Teleregione l'assessore Delisa. La pioggia torrenziale ha costretto i nomadi ad arrendersi dopo un'ora di concerto, tuttavia oltre mille spettatori allo stadio Lancellotta di Isernia, invisibilio per la musica proposta dalla storica band. Infine lo sport il calcio, un giovane isernino per la panchina del vasto Girardi ci sta lavorando la società alto molisana. Amarcord Rosso Blu, questa sera a zona sport su Teleregione, ospiti Ciarlantini, Partiglia e Medeot. Ben trovati in nuova edizione del Tg di Teleregione, come avete sentito in apertura parliamo di sanità, delle proteste in atto in tutta Italia all'Aquila. Manifestazione davanti alla direzione della ASL1 indetta dai sindacati, la sanità pubblica deve essere difesa. Questo è il grido dei manifestanti, sentiamo Sabrina Giangrande. Si è svolta all'Aquila davanti alla direzione dell'azienda sanitaria locale numero 1 la manifestazione La sanità pubblica si difende. Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni dei promotori delle iniziative e di alcuni rappresentanti della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila. C'è bisogno di risorse finanziarie, di investimenti in personale e tecnologia e c'è bisogno di una programmazione coerente con i fabbisogni sanitari, cosa che fino ad oggi non è avvenuto. Noi oggi abbiamo manifestato fuori dalla direzione generale dell'ASL, abbiamo chiesto in questo momento anche un incontro con la direzione strategica, appunto per provare a costruire soluzioni ai problemi che abbiamo sollevato in piattaforma per la manifestazione di oggi, ma su non c'è nessuno. Una battaglia che portiamo avanti da tanto, troppo tempo, che ha visto i sindacati, parti politiche dell'opposizione unite contro questo atteggiamento di disinteresse rispetto a un problema che affligge soprattutto le aree interne dell'Abruzzo e in particolar modo la provincia dell'Aquila. Un silenzio assordante oramai dei vertici politici della Regione Abruzzo e anche della direzione generale, un sbilanciamento sproporzionato delle risorse sulle aree costiere rispetto alle aree interne, è che è arrivato il momento di dire basta. Simona Giannangeli, consigliera comunale, ci troviamo davanti la sede dell'ASL dell'Aquila. Manifestazione fondamentale, importantissima, ringrazio la CGL e tutte le associazioni che l'hanno promossa perché questo è un territorio malato, ammalato del fatto che sia stato privato di ogni forma di diritto alla cura. L'ospedale e la medicina territoriale sono realtà completamente svuotate. In questa città non si ha più il diritto a poter essere curati, non si sostituiscono i medici dei nuclei di cura primaria, si vuole realizzare un ospedale di comunità all'interno dello stesso ospedale in piena violazione del dettato normativo. risulta che oggi il manager ASL romano abbia lasciato la sua sede, ancora una volta a manifestare il fatto che è completamente disinteressato dello stato di salute di questi cittadini. Ancora di più il sindaco di questa città, primo responsabile della salute di tutte e tutti noi, ancora una volta assente. Sindacati e cittadinanza attiva hanno organizzato il sit-in che invece si è svolto a Campobasso. Circa 6 milioni gli italiani costretti a rinunciare alle cure. Alessandro Adamo. Manifestazioni in diverse città italiane a difesa della sanità pubblica, l'appello anche del presidente dell'ordine di medici di Campobasso, Pino De Gregorio. Lunghe liste di attesa, chiusure di reparti, riduzione di posti letto, organici ridotti all'osso, sono questi alcuni dei problemi che costringono migliaia e migliaia di persone a rivolgersi ai privati, mentre chi non può permetterselo, circa 6 milioni di italiani, è già oggi costretto a rinunciare alle cure. Siamo qui anche sotto questo tempo che esprime molto bene lo stato del sistema sanitario regionale. Sistema sanitario che funziona abbastanza a rilento. A rilento perché? Per le risorse che generalmente non ci danno, come Regione, ma soprattutto per l'organizzazione che non ha consentito di sviluppare quelle strutture che adesso sarebbero state utili. In sostanza un miglioramento dei pronto soccorso, assunzioni di personale per far funzionare ai medi servizi esistenti. Perché quello è il problema? Questo si riflette ovviamente con le difficoltà dei cittadini che si trovano ad affrontare le lunghe file di attesa quando hanno bisogno del pronto soccorso. Ma perché? Perché non trovano a livello territoriale una risposta sufficiente, sempre per mancanza organizzativa e di personale. Naturalmente è lo stesso problema, sono le liste d'attesa per tutte le varie prestazioni. Come si può risolvere questo problema? Cambiando essenzialmente paradigma. Noi speriamo che i prossimi decisori politici che avremo in Regione possono rimediare a tutto questo. Una manifestazione comune con ANAO, ASSOMED, Associazione dei Cittadini e Pazienti. Il Servizio Sanitario Nazionale è una struttura di coesione sociale fondata su tre diritti fondamentali. L'uguaglianza, l'universalità e l'equità oggi sono stati traditi. Quindi noi siamo qui perché vogliamo che il sistema sanitario nazionale venga difeso dal governo e soprattutto che ci metta le risorse. Questo lo vediamo con le lunghe liste d'attesa, con la mancanza di personale, l'esodo dei medici dalla struttura pubblica. La pagina è elettorale, ma restiamo a parlare di sanità perché arriverà domani a Campobasso il ministro della Salute Orazio Schillaci e scoppia la polemica. Gravina attacca Roberti. Il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà domani mattina a Campobasso per incontrare i simpatizzanti del centro-destra e per tirare la volata al candidato presidente Francesco Roberti. Una visita che ha generato non poche polemiche nella sua genesi con Roberti, che in qualità di presidente della provincia, ha fatto partire dai suoi uffici delle PEC con cui si convocavano tutti i sindaci della regione ad un incontro dibattito che si sarebbe dovuto svolgere nella sala della Costituzione della provincia di Campobasso. Decisione rituale, inopportuna e rispettosa delle più basilari regole istituzionali, tuona il candidato del centro-sinistra Roberto Gravina. Non bisognerebbe mai neanche correre il rischio di mescolare istituzioni e propaganda, aggiunge il sindaco di Campobasso, perché è alquanto irrispettoso per le stesse istituzioni che si rappresentano. Irrispettoso nei confronti dei cittadini ai quali quelle istituzioni devono chiarezza e serietà in ogni occasione e nel caso specifico. Irrispettoso nei confronti dei sindaci che non possono né devono dover incontrare un ministro della Salute di nomina politica a pochi giorni da una tornata elettorale e in un luogo istituzionale. Quindi inviolabile misunderstanding che ha costretto il centro-destra e Roberti a fare marcia indietro, nessun vertice con i sindaci, ma solo un incontro elettorale, anche se non escluso, che il ministro scelga di visitare il cardarello di Campobasso per toccare con mano le difficoltà di una sanità pubblica in grande affanno. Continuiamo dopo il servizio di Pierluigi Boragine con la pagina elettorale e con le accuse dell'altro candidato governatore Emilio Itzo all'indirizzo del sindaco di Campobasso. Itzo oggi ha fatto visita ad alcuni luoghi di Campobasso, del capologo del Molise. Sentiamo Stefania Potente. La Biblioteca Albino, la Cattedrale e il Castello Monforte, tre luoghi simbolo della città di Campobasso attualmente chiusi e nel caso della struttura di Via D'Amato abbandonata all'incuria e al degrado. Sono le tre tappe dell'iniziativa che ha visto protagonista Emilio Itzo, il candidato presidente del Movimento Io non voto i soliti noti, che ha scelto di soffermarsi davanti a questi edifici emblematici per denunciare l'incapacità ad amministrare del suo principale competitor politico, Roberto Gravina, aspirante governatore del centro-sinistra e sindaco di Campobasso. Cioè il sindaco di Campobasso in quattro anni è stato da voi menzionato dai media cinquanta volte, quaranta volte perché ci pioveva il cimitero e dieci volte per il concetto del corpus domi. Non può essere, questa è una buona amministrazione pubblica. La Biblioteca Albino, prima tappa della passeggiata che si è svolta sotto la pioggia, è chiusa da otto anni dopo il ridimensionamento delle province con la riforma del Rio. L'ente di Via Roma non aveva più soldi per mantenerla e quindi, per consentirne la sopravvivenza, era stato firmato un protocollo tra regione e ministero per garantirne una celere riapertura. Protocollo rimasto però sulla carta. Siamo davanti a uno straordinario luogo di cultura, talmente straordinario che è chiuso ormai da anni. Già tre, quattro anni fa la direzione regionale dei beni culturali disse stiamo per aprire, io c'ero quel giorno, c'eravate anche voi, non è successo niente. Emilio Izzo non è convinto nemmeno del progetto di ristrutturazione e riqualificazione del castello Monforte. Ma qualcuno ha mai risolto il problema delle antenne che ci sono su quel castello? Quello non è l'emblema di una città, non è l'emblema della cultura, è l'emblema di emittenze private. Ci candidiamo ad essere rappresentanti della cosa pubblica e non della cosa privata. Il Molise non ha né un piano di sviluppo né un piano agricolo, ma questo settore va tutelato perché conta 27.000 imprese e 7.000 addetti diretti. Queste sono le parole di Donato Campolieti, candidato alle regionali con la lista Alleanza Verdi Sinistra, che abbiamo intervistato. In una regione che potrebbe farne un comparto trainante, l'agricoltura fatica a trovare uno sbocco di sviluppo e rilancio, tanto da aver perso tutte le filiere, l'abieticolo saccarifera, la vicola e quella dell'ortofrutta, e da non riuscire a valorizzare come si deve alcuni prodotti unici per proprietà nutrizionali ed organolettiche, il caciocavallo dell'Alto Molise, il pomodoro di Montagano e la tintiglia. Temi su cui accende un faro Donato Campolieti, 53 anni, ex direttore della Confederazione Italiana Agricoltori, e candidato con la lista Alleanza Verdi e Sinistra Alternativa Progressista, che ha aperto la sua sede in via Monsignor Bologna, 14 a Campobasso. Tutti dicono che il Molise è rurale ed è una grandissima verità. Noi dobbiamo ripartire dalle cose che abbiamo, e sicuramente l'agricoltura ce l'abbiamo, ma la dobbiamo rafforzare e valorizzare, dando gli strumenti ovviamente agli imprenditori agricoli, sia in termini di operatività ma anche obiettivi di redditività. Per aiutare le imprese agricole, oltre a contrastare la fauna selvatica con la caccia di selezione, strumenti quali l'autocattura, per Campoglieti è necessario creare contratti di filiera e favorire l'accesso al credito tramite Fimolise, oltre a snellire le procedure burocratiche. Il comparto agricolo infatti ha numeri rilevanti, paragonabili a quelli di grosse industrie come la Stellantis. 7.000 aziende iscritte all'Inps, quindi tre volte qualche grossa azienda multinazionale, ma soprattutto ha una valenza anche in termini di rappresentanza nella Casa delle Imprese, la Camera di Commercio del Molise, il 27% delle imprese iscritte sono agricole. Sempre per la politica, domani su Teleregione, a partire dalle ore 21, nuova puntata di Conto alla Rovescia, il talk condotto da Pasquale Damiani, ospite nella prima parte il candidato presidente del centro-sinistra, Roberto Gravina, nella seconda parte i segretari e i referenti dei partiti presenti in questa tornata elettorale, Teresio Di Pietro per i centristi, Salvatore Colagiovanni, referente dei popolari, Domenico Esposito per Forza Italia, Daniele Saia per il Molise Democratico e Socialista. Appuntamento dunque, come detto, domani sera alle ore 21, con Conto alla Rovescia, naturalmente su Teleregione. Per la cronaca ora andiamo a Pescara per seguire gli sviluppi del blitz condotto dalla Guardia di Finanza l'alba di lunedì, il blitz Latana delle Tigri, ieri gli interrogatori di garanzia, il GIP sta riflettendo sull'eventuale scarcerazione. Sono state presentate delle istanze da parte dei legali degli arrestati. È attesa nelle prossime ore la decisione del GIP circa le misure per i quattro arrestati nell'ambito dell'operazione Latana delle Tigri condotta all'alba del 12 giugno dalla Guardia di Finanza di Pescara. Bocche cucite nel corso degli interrogatori di garanzia per i due principali indagati, l'imprenditore Edile Vincenzo De Leonibus difeso da Sergio Della Rocca e Augusto Lamorgia e l'ormai ex dirigente dei lavori pubblici del comune di Pescara Fabrizio Trisi assistito dall'avvocato Marco Spagnolo. Dall'indagine delle fiamme gialle emerge che l'architetto, una specie di dominus del comune, aveva costruito un vero e proprio sistema in cui sono finiti anche altri funzionali dell'ente, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali dei finanzieri coordinati dal comandante provinciale Antonio Caputo vengono fuori contatti continui tra Trisi e De Leonibus in merito ad alcune importanti gare d'appalto finanziate dal PNRR per la manutenzione stradale, in particolare per la riqualificazione di via Andrea Doria e per la realizzazione del collegamento tra l'asse attrezzato e la statale 714. De Leonibus, che ha formalizzato le divisioni da amministratore delegato della società di costruzioni che porta il suo nome, secondo l'accusa forniva denaro e droga durante i frequenti incontri con Trisi, riunioni in cui tra una partita a carte e un'altra si parlava proprio delle gare d'appalto. Come si legge nell'ordinanza del GIP, Fabrizio Cingolani, De Leonibus e il professionista si incontravano più volte, ma l'imprenditore ha l'accortezza di disattivare il geolocalizzatore e spegnere lo smartphone. A proposito della droga, Pino Mauro Marco Aurelio, assistito dal legale Gianluigi Amoroso, uno dei due presunti spacciatori, rinchiuso in carcere, avrebbe ammesso di aver ceduto cocaina al dirigente, ma a titolo di amicizia, mentre l'altro presunto pusher, Vincenzo Ciarelli, difeso dall'avvocato Roberto Serino, ha negato ogni addebito. Un giovane termolese accusato di tentato omicidio, minacce aggravate e danneggiamento aggravato, è finito agli arresti domiciliari. Ad aprile aveva aggredito e minacciato alcune persone nei pressi di un'attività commerciale, tentando tra l'altro di investirle con l'auto. Poi era fuggito. Gli agenti della polizia, del commissariato di Termoli, sono riusciti in breve tempo a risalire all'identità dell'autore di questo grave gesto, si sono messi immediatamente alla sua caccia e nei pressi della piscina comunale è stata rinvenuta l'auto utilizzata dall'uomo, su cui vi erano evidenti segni di danneggiamento riconducibili proprio all'episodio che era avvenuto pochi minuti prima. Nei confronti del ragazzo è stata applicata, come detto, la misura cautelare dei domiciliari che è stata eseguita dalla Polizia di Stato. Ed ora andiamo a Larino, dove dopo la rivolta dei detenuti che è culminata con l'aggressione a un agente penitenziario, c'è stata la manifestazione dei sindacati che chiedono più agenti, più personale, per riuscire a mantenere la sicurezza e l'ordine. Sentiamo. Nel giorno in cui alla Camera dei Deputati il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, Mauro Palma, torna a denunciare il sovraffollamento delle carceri, davanti all'Istituto Penitenziario di Larino i sindacati manifestano per chiedere un potenziamento dell'organico. Un poliziotto penitenziario è stato aggredito alcuni giorni fa quando in carcere i detenuti hanno protestato perché uno di loro si era sentito male e non c'erano medici. Sono stati momenti di alta tensione, è scemata solo con l'intervento del direttore dell'Istituto e del magistrato di sorveglianza. Tra i problemi del carcere frentano c'è anche la carenza del personale sanitario. Queste le richieste dei sindacati. Vogliamo il comandante di reparto fisso, quindi assegnato presso la casa circondaria di Larino, vogliamo la presenza del direttore come previsto in tutti gli istituti penitenziari dell'Italia, fisso sei giorni su sette e vogliamo che l'ASREM assegni il personale medico una postazione H24, un presidio medico H24, non sei ore al giorno, perché i detenuti non sono persone comuni, quindi hanno esigenze dei pischiatri, hanno esigenze sanitarie. Anche la direttrice Antonella De Paola ha ammesso le difficoltà e questa mattina ha partecipato al presidio. Allora, sicuramente garantire il mandato costituzionale previsto dall'articolo 27 della Costituzione che prevede che noi come operatori penitenziari dobbiamo tendere alla rieducazione del condannato in questo momento nel carcere di Larino è molto difficile. Devo sicuramente correggere una cattiva informazione su questo argomento perché le attività trattamentali non sono mai cessate all'interno dell'Istituto di Larino, anzi, la direzione in collaborazione anche con l'area educativa sicuramente sta programmando altre numerose attività che verranno diciamo messe in atto nel futuro. E veniamo al report di Banca Italia sull'economia abruzzese frenata dalla guerra e dai rincari energetici mentre uno studio di confartigianato certifica i giovani non sono offerte le migliori condizioni per lavorare e fare impresa. Pasquale Damiani Rallenta la crescita in Abruzzo come nel resto del paese nel 2022 dopo la marcata ripresa del 2021 e quando emerge dall'indagine della Banca d'Italia su un campione di impresa industriale in Abruzzo che ha rilevato nel 2022 un indebolimento delle vendite a prezzi costanti in particolare per le piccole imprese e per quelle orientate prevalentemente al mercato interno. Si sono poi registrati aumenti di prezzo diffusamente praticati per far fronte a rincari energetici e a seguito del conflitto in Ucraina. Mentre sempre a casa della guerra le tensioni lungo le catene globali di approvvigionamento hanno determinato rallentamenti produttivi nel principale comparto dell'industria manifatturiera regionale ovvero l'automotive. L'indagine della Banca d'Italia fa il paio con lo studio del centro studi di confartigerato imprese Chieti-L'Aquila secondo cui l'Abruzzo non offre ai giovani le condizioni migliori per lavorare e fare impresa. Nella classifica generale l'Abruzzo si posiziona al tredicesimo posto a pesare sul dato abruzzese sono soprattutto la bassa diffusione dei contratti stabili offerti ad under 30 la bassa diffusione dell'apprendistato il saldo migratorio verso altre regioni di giovani di età compresa tra i 25 e 39 anni e la dinamica negativa dei prossimi 40 anni della popolazione tra i 24 e i 25 anni. Ci sono importanti prospettive per la FIS un'azienda che si trova nel nucleo industriale di Termoli grazie ai 30 milioni di euro erogati dal Ministero delle Imprese In certezze invece aleggiano sul futuro della Vibac sono previsti infatti circa 100 esuberi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy erogherà quasi 30 milioni di euro per la FIS la fabbrica italiana sintetici S.P.A. che produce per conto delle principali aziende farmaceutiche biotecnologiche internazionali prodotti con principi attivi come tranquillanti ansiolitici antibatterici e prodotti per il mercato veterinario Uno stabilimento è presente anche a Termoli dove l'investimento ministeriale potrebbe favorire nuovi posti di lavoro Complessivamente tra le sedi molisane e quelle venete sono stimate 146 nuove assunzioni come sottolinano i parlamentari molisani di Fratelli d'Italia il senatore Costanzo della Porta e l'onorevole Elisabetta Lancellotta che hanno evidenziato la loro soddisfazione dopo la firma dell'accordo di sviluppo volto a sostenere gli investimenti programmati dalla società L'investimento dell'azienda e il contributo del ministero consentiranno all'azienda di avere un impatto positivo sul territorio dal punto di vista occupazionale chiariscono i parlamentari la dimostrazione è questa che il governo Meloni sta lavorando per l'economia del nostro paese Se dunque le prospettive sono ottime alla FIS e se alla ITT solo pochi giorni fa è stata posta la prima pietra per il nuovo cantiere propedeutico all'ampliamento dello stabilimento non si può dire lo stesso per la VBAC dall'incontro tra i referenti regionali e i referenti aziendali è emerso nell'appuntamento che hanno avuto la settimana scorsa al ministero del lavoro ulteriori 12 mesi di cassa integrazione straordinaria previsti 106 esuberi e l'ultimo incontro in regione non ha chiarito i dubbi sul piano di efficientamento energetico previsto dalla società denotiamo a questo punto un forte passo indietro dell'azienda questo ci fa ci provoca un grandissimo rammarico difesa della costituzione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i tre temi che fanno da spondo alla manifestazione in programma il prossimo 24 giugno su iniziativa della CGL manifestazione che è stata presentata oggi a Campobasso sentiamo all'interno della sede regionale della CGL Molise di Campobasso la presentazione della campagna e della manifestazione nazionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in un momento in cui sono in crisi tutte le organizzazioni di rappresentanza compresa la CGL abbiamo pensato di rilanciare una grossa mobilitazione sociale più di 70 associazioni hanno già aderito alla manifestazione di Roma del 24 giugno e una mobilitazione che si concluderà il 30 settembre con un'altra nuova manifestazione diritto alla cura alla salute all'istruzione ad un lavoro sicuro i primi argomenti della manifestazione il 30 settembre continueremo la nostra azione di proposta la nostra azione di ascolto facendo una grande di nuovo manifestazione su quelli che sono i temi costituzionali siamo nettamente contrari alla proposta di autonomia differenziata e alla proposta di riforma costituzionale che inizia a parlare di presidenzialismo o di semipresidenzialismo incontro pubblico a Isernia sulla Grim la nuova società per la gestione delle risorse idriche le bollette hanno subito un lieve aumento ha detto il sindaco Piero Castrataro ma restano tra le più basse d'Italia Nicola De Santis A Palazzo San Francesco incontro pubblico voluto dal sindaco di Isernia Piero Castrataro per discutere del nuovo gestore del servizio idrico il primo cittadino ha confermato le difficoltà in fase di rodaggio annunciando peraltro un incremento della tariffa del 20% circa per nucleo familiare a causa dell'incremento del costo dell'energia elettrica ugualmente però ha dichiarato Castrataro la bolletta dell'acqua di Isernia resta tra le più basse d'Italia è chiaro che nel momento in cui c'è stato il trasferimento di dati dal vecchio gestore dalla banca dati del comune alla banca dati Grim come tra l'altro è scritto anche sulle stesse bollette è possibile che ci sia stato qualche problema qualche utente mi ha detto del fatto delle seconde case e quindi dove la bolletta non è intestata diciamo all'affittuario e questo problema però si risolve tranquillamente d'ufficio è un momento di rodaggio però nel giro di poco tempo le cose andranno come devono andare cioè nel verso giusto presente all'incontro anche Tiziano Di Clemente in rappresentanza del Partito Comunista dei Lavoratori il quale tra le varie criticità ha rilevato anche la mancanza di attenzione del nuovo gestore Grim per le persone in difficoltà economica primo punto riguarda gli indennizi economici che sono i conguagli a credito che devono essere trasmessi dal Comune di Isernia alla Grim per riportarli sulle bollette e quindi questo contribuisce a un impatto diciamo positivo perché diminuisce il costo di queste nuove bollette l'altro punto è che manca alla perequazione in base al nucleo familiare più aumenta il nucleo familiare meno si paga a parità di consumo poi ci sono altre criticità perché in pratica per quanto riguarda la questione della trasparenza bisogna andare a individuare qual è la tariffa che si applica in quanto nel 2022 il regime giuridico dell'epoca prevedeva che era il Comune a doverlo stabilire non l'ente subentrante tra l'altro è un pasticcio perché non si può dimezzare l'anno da gennaio a giugno e da giugno a dicembre quindi la tariffa comunale che era inferiore deve trovare applicazioni quindi le bollette vanno rifatte anche per questo poi ci sono altre criticità che valuteremo in corso d'opera man mano che finiremo lo studio degli atti in vista della stagione estiva l'amministrazione comunale di Vasto ha programmato diversi lavori soprattutto nella zona del litorale e ne abbiamo parlato con l'assessore alla pianificazione e all'urbanistica Alessandro De Lisa in vista della stagione estiva a Sessore sono stati effettuati tanti lavori soprattutto sulla spiaggia nella zona della Renile sì vabbè come sappiamo tutti Vasto è una città turistica una città che praticamente ospita nel periodo estivo arriva a triplicare quasi il numero degli abitanti e quindi è una città ricettiva abbiamo fatto gli interventi sulla zona della Bagnante abbiamo rifatto completamente il nuovo parcheggio come si arriva dal lato nord sistemando sia la parte diciamo strutturale del fondo più la nuova segnaletica stiamo facendo la manutenzione sulla piazza principale della Vasto Marina Piazza Rodi dove abbiamo praticamente rifatto le panchine l'arredo con le palme stiamo rifacendo la paventazione e stiamo facendo la manutenzione per quanto riguarda diciamo tutta la parte delle manutenzioni del verde per permettere praticamente di usufruire meglio della città e soprattutto dare la possibilità al turista di poter godere delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche che abbiamo su Vasto L'unico problema che adesso ha un po' di preoccupazione è questo lupo insomma a che punto siamo con le ricerche e soprattutto con la risoluzione del problema Sì per quanto riguarda il lupo c'è una task force organizzata perché sappiamo che le competenze sono dell'ISPRA quindi del ministero della regione domani pomeriggio c'è una regione specifica alle 15 dove ci sono i forestali c'è la ASL e c'è praticamente la regione che praticamente stanno cercando di trovare il modo di catturare l'animale sappiamo tutti che essendo un animale selvatico c'è tutta una normativa specifica anche se il sindaco in qualità di autorità sulla sicurezza ha fatto un'ordinanza specifica sulla cattura devo dire che l'altro venerdì io mi trovavo proprio sulla battiglia ho avuto modo proprio di incontrare questo animale selvatico e poi alla nostra vista ha cercato di seguire la sua strada insomma si è spaventato ed è fuggito non è stato aggressivo nei nostri confronti adesso ha avuto quel comportamento è un animale solitario di natura selvatica e dalle impronte che hanno rilevato sembrerebbe per com'è la forma e per il peso e per la tipologia sembrerebbe tendente a un lupo però adesso questo va verificato solo catturandolo speriamo che questo avvenga il più breve tempo possibile i cittadini sanno che con l'istituzione l'amministrazione sta lavorando al problema per andare incontro alle esigenze delle famiglie e garantire l'accesso ai centri estivi alla più ampia platea di utenti il comune di Terramo ha confermato anche per l'anno in corso il progetto l'estate in città che è stato approvato proprio nelle scorse ore dalla giunta che prevede l'erogazione di contributi al rimborso direttamente ai nuclei familiari residenti nel comune di Terramo per le spese sostenute per la frequenza dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa nel periodo che va dal 1 luglio al 15 settembre prossimo il tartufo una ricchezza del Molise è uno splendido esemplare di scorzone di quasi un chilo è stato trovato in provincia di Isernia da Camillo di Perna e dal suo fedatissimo Artù un lagotto romagnolo di quasi due anni un ritrovamento di quelli che entrano nella storia è che molto spesso il territorio isernino nasconde fino a quando la tenacia dell'uomo e il fiuto di un abile cane entrano in gioco un'emozione unica detto Camillo di Perna sono felice perché è la dimostrazione che il Molise c'è che la provincia di Isernia c'è ed è giusto che il nostro territorio venga valorizzato anche sotto questo punto di vista per gli spettacoli concerto bagnato e molto quello dei nomadi ieri allo stadio L'Ancellotta di Isernia la storica band è riuscita a suonare per un'ora di fronte a una tribuna piena sentiamo i brani in scaletta erano 30 dopo un'ora però i nomadi sono stati costretti ad arrendersi alla pioggia torrenziale che ha colpito Isernia gli oltre mille spettatori dell'Ancellotta però hanno ugualmente apprezzato lo spettacolo sottolineando con un fragoroso applauso fino anche l'uscita di scena i nomadi hanno abdicato per la pioggia e non si poteva fare diversamente visto che ormai anche gli strumenti utilizzati per il concerto erano completamente bagnati nei 60 minuti di concerto la storica band italiana che ha di recente tagliato il traguardo dei 60 anni di attività ha proposto i brani più noti al grande pubblico miscelati con le canzoni del nuovo album che si intitola Cartoline da qui il concerto è stato organizzato dalla Croce Rossa di Sernia l'incasso andrà in beneficenza siamo arrivati a 60 non mettiamo limiti alla providenza visto che penso che sia un bel traguardo un gruppo con tante trasformazioni che ha avuto insomma non è facile però ho sempre dei ragazzi con me che sono dei tesori che li tengo ben stretti perché poi insomma con Iuri che è arrivato per ultimo che sono già 7-8 anni insomma non è roba da poco ed è una grande soddisfazione e gli ho detto Iuri portami fino alla fine che spero che sia lontana è il momento del meteo scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore Previsioni del tempo per venerdì 16 giugno in Abruzzo tempo stabile ed assolato ovunque 20 moderati mare mosso diamo uno sguardo alle temperature l'Aquila 12 la minima 24 la massima Pescara 19-24 Chieti 16-24 Teramo 14-23 gradi in Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque eventi moderati ma rimosso diamo uno sguardo alle temperature Campobasso 12 la minima 23 la massima Isernia 14-23 Termoli 20-24 Venafro 14-25 gradi L'informazione torna questa sera ma non andate via perché tra poco c'è la pagina sportiva restate con noi Ben trovati a tutti voi con la pagina sportiva di Teleregione in apertura parliamo di calcio di serie D e dei movimenti in seno al vasto girar di calcio un giovane Isernino potrebbe finire sulla panchina della squadra alto molisana questi alcuni elementi dell'identikit ma sentiamolo meglio nel servizio Sul tacquino del direttore sportivo Giuseppe Giglio c'è anche il nome di un giovanissimo allenatore di Isernia che sarebbe all'esordio in serie D la notizia è più che fondata e anzi sarebbe al centro di un fitto colloquio tra i dirigenti tra favorevoli e contrari il nome dell'interessato lo faremo solo più avanti per ora ci limitiamo a dire che è un giovane mister Isernino e che ha allenato con profitto in diverse piazze ottenendo sempre risultati lusinghieri un giochista pieno di entusiasmo che sposerebbe la causa gialloblu senza tentennamenti certo è una scommessa e anche di quelle forti ma al presidente Andrea Di Lucente piacciono le scelte che vanno in controtendenza con il sentire comune e il più delle volte queste scelte sono state azzeccate e premiate dai risultati ottenuti sul campo del resto basta guardare cosa è successo con Tommaso Coletti per capire che più che il curriculum contano le idee e la voglia di fare l'alternativa al giovane Isernino è un mister boianese da adozione che la categoria la conosce molto bene avendola frequentata da allenatore e soprattutto da calciatore insomma l'idea di base di Di Lucente e soci è quella di affidarsi ad un allenatore molisano ma non è l'unica soluzione possibile e sì perché sul tavolo ci sono anche le proposte del DS Giglio che vedrebbe di buon grado sulla panchina gialloblu un suo uomo di fiducia o comunque un tecnico che graviti nella sua sfera tecnica l'ultima parola è di competenza di Di Lucente toccherà al vulcanico presidente scegliere il successore di Coletti storica ed emozionante puntata quella in onda stasera su Teleregione a partire dalle ore 21 di Zona Sport con Franco Presutti verrà ripercorsa l'epoca d'oro del calcio e anche quella del basket Campobassano con immagini esclusive e ospiti di rilievo al tempo migliaia di tifosi avevano due appuntamenti fissi la domenica prima allo stadio e poi al palazzetto in studio ci saranno gli ex calciatori Alberto Medeot Luigi Cialantini e Carmelo Parpiglia e gli ex cestisti Alfio Romito e Michele Cefaratti insieme ad altri ospiti che hanno trascorso gran parte della loro vita nel mondo del calcio e della palla a canestro quindi Giuseppe Mastropaolo ex dirigente Rosso Blu e Michele Falcione presidente regionale dell'ASMES quindi non perdete l'appuntamento questa sera alle 21 su Teleregione e domani in replica alle 16 è tutto per la pagina sportiva che vi invito a rivedere online attraverso il nostro sito teleregionetv.it ma seguiteci anche attraverso i nostri canali social Instagram Facebook e anche Youtube grazie di essere stati in nostra compagnia buon proseguimento con Teleregione arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.